Ennesima rivoluzione in casa Brindisi, in particolare per quanto riguarda il reparto avanzato, che dopo l'ormai prossimo arrivo di Ettore Ballestracci, che arriverà in città nelle prossime ore, potrebbe vedere approdare in riva all'Adriatico anche Davide Evacuo, attaccante classe 1987, che aveva iniziato la stagione nel campionato di eccellenza campana con la maglia della Scafatese. L'ex calciatore, tra le altre squadre di Pomezia, Turris, Gelbison, Campobasso, Sansevero, Nocerina e Fasano, potrebbe arrivare a Brindisi nella giornata di martedì per chiudere l'accordo con la società biancazzurra. Per quanto riguarda il mercato in uscita, Leandro Vita sarà ceduto nelle prossime ore al Colorno, nel campionato di eccellenza dell'Emilia Romagna, mentre, come già anticipato, Franco Padin è pronto a tornare nel Reggio Mediterranea. I due attaccanti argentini lasciano Brindisi dopo una brevissima parentesi che gli ha dato poche possibilità di mettersi in mostra tra scelte tecniche e societarie. Ora toccherà ad un nuovo attacco provare a smuovere la sterilità offensiva della formazione biancazzurra.